Disagi sì, ma non troppi per lo sciopero dei trasporti che ha coinvolto nella regione toscana, in particolare i lavoratori di TM. Una decisione comunque complessivamente sostenuta a macchia di leopardo all'interno della regione dopo che era stato proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti di 4 ore da Filt CGL, Fit CISL, Faisa CISL e UGL FNA. Lo sciopero, che ha riguardato la mattinata di lunedì, ha interessato l'azienda TM che gestisce il trasporto pubblico a Grosseto, Siena-Arezzo. Proprio ad Arezzo la percentuale di adesione a livello cittadino è stata del 37%, più marcata invece in provincia, dove hanno aderito più della metà dei lavoratori TM, il 54%. Il segretario toscano della Fit CGL Stefano Boni ha detto che pur trattandosi di uno sciopero di sole 4 ore un po' di disagi si sono avvertiti dalla popolazione, anche se i cittadini erano stati informati della protesta e sono inoltre state rispettate le fasce di garanzia. In Toscana, ha aggiunto, stiamo protestando non solo per il mancato rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da sei anni, ma anche contro l'atteggiamento di alcune aziende locali che in maniera unilaterale stanno chiudendo i contratti integrativi. Stanno alzando il livello del conflitto, ha concluso, e non si capisce dove vogliono andare a parare. Per noi questo è inaccettabile. Grazie a tutti.